Forum della famiglia, quali sono gli obiettivi di questa iniziativa? Ho fondato questa associazione con delle mie colleghe universitarie per esplorare il mondo del matrimonio. La mia curiosità è stata captata dall'entusiasmo di tante giovani coppie nella preparazione del proprio matrimonio. Però poi dopo mi sono accorta e ho notato che troppo spesso una fraga. E quindi mi sono chiesta come mai, secondo me c'è poca preparazione, c'è poca conoscenza e appunto ho fatto questa associazione per porre domande agli esperti e ricevere delle risposte semplicemente per arrivare più consapevoli al matrimonio che non è su un gioco. Io trovo che sia fantastica, profonda, l'idea di Martina Ferrari dell'ambito della sua presidenza nell'osservatorio della famiglia di proporre a tutti questi corsi prematrimoniali per chi vuole diventare genitore, per chi vuole essere coniuge conoscendone i diritti, le responsabilità, i doveri ma soprattutto per chi vuole essere nel genitore perché oggi le famiglie sono profondamente cambiate, c'è quasi una geografia impazzita delle famiglie, non c'è più la famiglia tradizionale di una volta col padre che aveva un potere, la madre che faceva l'allevatrice, i figli che obbedivano. La cosa è molto sconcertante perché le giovani coppie non si pongono domande, si sposano senza porsi nessuna domanda eppure stanno affrontando un negozio giuridico dove ci sono dei reciproci obblighi e dei reciproci doveri e la maggior parte dei giovani affronta questo passo senza avere minimamente la percezione, la cognizione che comunque stanno sottoscrivendo degli accordi e che hanno delle regole da rispettare. Ed è il motivo della superficialità con la quale si affronta questo passo se sempre più matrimoni naufragono e soprattutto naufragono sempre più velocemente. Noi non sentiamo mai parlare quando si tratta di matrimonio o di coppia della formazione, dell'informazione della formazione delle coppie. Invece la coppia è la cosa più importante per costruire una famiglia. È come dire che una cosa importante come un atto fondamentale della vita che dovrebbe essere nel tempo, per sempre eccetera, ma che poi può benissimo non esserlo viene trascurato assolutamente nel senso dell'informazione e della formazione.